Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo episodio della vanilla Episodio un po' strano perché cominciamo a cavallo, cominciamo in giro, andando in giro Perché ci siamo lasciati con il ponte rosso nello scorso episodio Ora sto raggiungendo la paruda, infatti in questo episodio voglio farmare tante tante slimeball Pian piano faremo anche la farm di slime ma al momento non la posso fare o meglio l'ho rimandata Quindi al momento direi che ci accontentiamo di andare a farmarli direttamente Ora ci servono 5 blocchi di slime per la farm che ci servirà davvero in futuro ed è importantissima Quindi ci vorrà un bel po' Intanto qua ci sono dei sapling Vabbè io li prendo, io li prendo E soprattutto ora devo anche ricordarmi dov'era la palude Quindi ci guardiamo un po' attorno ma in teoria non dovremo perderci Eccola qua ragazzi l'abbiamo raggiunta Non mi sono potuto preparare nulla ragazzi per questo episodio Quindi ho deciso di fare questo piccolissimo progetto random Che però comunque come vi ho detto ci servirà in futuro quindi non è tempo sprecato E nel prossimo episodio probabilmente vi farò vedere un po' di più di progresso Purtroppo per questo episodio non ho tantissimo tempo Quindi ho deciso di fare qualcosa del genere Salve signori come state A questo punto non possiamo fare altro se non stare qua a aspettare la notte Perché dobbiamo combattere contro gli slime E non ho neanche una spada colluting ragazzi Non ho avuto tempo neanche di livellare un pochino Quindi alla farm di zombie Fare il livello 30 per provare ad incantare la spada Ma non importa, non importa Direi che il tempo è perfetto Perché siamo arrivati qua al tramonto Quindi aspettiamo che diventi notte e comincia la battaglia Dovrebbe spero spawnare qualcuno Che non sia ovviamente uno scheletro o un creeper come quello laggiù Ovviamente quelli non mancano mai Ma io punto agli slime Come vedete ho anche legato laggiù il cavallo per non perderlo E a fargli compagnia come vedete è arrivato un simpaticissimo creeper Che come sempre non ci abbandona Ora, stando attenti Io traccerei un percorso con le torce Perché ho paura di perdermi nella palude Se anche è comunque un bioma facile Però è sempre meglio stare attenti Ecco, già che ci siamo però io farmerei anche un minimo di ossa Che già non fa male Ecco qua, benissimo Così almeno abbiamo un pochino di ossicina Che sempre servono E vedo già uno slime Vedo già uno slime laggiù Quindi stiamo attenti Eccoci qua Grazie Fornisci pure le tue ossa Grazie mille scheletro E ce ne sono talmente tanti Che davvero sarà difficile anche farmare solo uno slime Eccolo qua il primo slime Forza Cadi Moltificatevi No signor creeper Non mi faccia saltare in aria I miei drop Per favore Ecco Esplodi Esplodi Scheletro Scheletro Eccolo qua Forza Esplodi Zombie Zombie Galline Galline così random E guardate un po' che bella copiata di creeper Esplodi pure signor creeper Salve Vai E purtroppo è esploso Non importa Non importa Intanto farmiamo tutte le ball del caso Eccoci qua L'ultima Grazie Mi scusi signora pecor Ho dato una spadata anche alla pecor Ma non importa Siamo a quota Quattro slime ball Ragazzi Ce ne serviranno per cinque blocchi Quindi almeno una cinquantina Ci vorrà un bel po' Ah Secondo slime Secondo slime Forza Dividiti per favore Grazie mille Aspettate che c'è un ragnetto qua Che mi sta anche ammazzando Io in tutto ciò ragazzi Non sto neanche mangiando E sto per crepare Aspettate che mi sposto un attimo E mangio qualche patatina Però come vedete Gli slime non mancano La cosa mi piace Mi piace davvero tanto Aspettate Eccolo qua Faccio fuori il ragno Eccolo Secondo slime Forza 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 Dividiti pure Ecco qua che devo fare Anche un pochino di ball In questo modo Forza ragazzi Morite tutti Morite tutti E ora però purtroppo Non posso spammare i colpi Ora Sono un pochino confuso Con la bleach mode Ma non importa Ecco qua Grazie signor zombie Grazie mille per la presenza Sperando non arrivi un creeper Alle spalle Prendiamo tutte le ball Siamo a 18 18 significa Due blocchi di slime E ce ne mancano ancora tre Questa la prendo Ecco qua un altro slime Qua giù Aspettate Mi butto in acqua Eccolo qua Dividiti pure Ecco Dammi tante tante ball Grazie Signor zombie Grazie per la presenza Non importa Eccoci qua Prendo tutto Siamo a 26 ragazzi Siamo praticamente A metà dell'opera Perfetto Zombie e pollo Una coppiata perfetta Salve Salve Minizombi Spero non arrivi qualche creeper Eccoci qua Scappiamo Scappiamo E cerchiamo altri slime Che però non vedo Non vedo Intanto è piena notte Quindi dovrebbero ancora spawnare Qua intanto ci sono le mie torce Che mi indicano Che qua c'è anche il cavallo Non guardiamo gli enderman Per favore Grazie Slime Laggiù all'orizzonte Vado subito ad attaccarlo Ah guardate un po' Ce ne sono addirittura due Salve signori slime Grazie Può morire Grazie Grazie Forza Eccolo qua Grazie mille Signor zombie Grazie per la presenza Quanti ranni ci sono Quanti siete Wow Scappo Scappo Prendo solo lo slime Grazie della ball Forza Grazie Scappo Scappo E mangio Mangio perché in realtà ho fame Ho fame Guardate un po' i ranni Che mi seguono in acqua Eccoli Guardate un po' Che bella famigliola Felice Uno vicino qua al cavallo Grazie mille per le slime ball E intanto c'è anche lo scheletro Che ha i bei stivalozzi d'oro Non importa Scappo Scappo Assolutamente Scappiamo Scappiamo Occhio di ragno E altri slime All'orizzonte Vicino a un creeper Che in realtà non è proprio bella Come accoppiata ma Ci proviamo Ci proviamo Prendiamo la ball Scappiamo E vediamo un po' Se ce ne sono altri Siamo a quota 49 49 Ce ne mancano in realtà poche Abbiamo quasi anche finito La nostra missione Scappo Scappo Chi se ne frega Del mini zombie Eccolo qua Eccolo qua Salve Come sta lei Via via Ah Esploso Esploso Ultimo slime Della nottata ragazzi Si sta anche Facendo giorno intanto E qua ce ne sono altri No sono un creeper Sono tutti creeper Sono tutti scheletri Oh no 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 Qua muoio Qua muoio Scappa 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 Quanti mob ci sono Non esplodere Prendo tutte le palline Prendo tutte le palline Che detta così suona malissimo Io scappo via Prima di morire Salve Ah Il tizio degli schivaletti Ragno Zombie Scheletro Qualcun altro No sapete Visto che ci siete Grazie Credo di avere le palline A posto Detta così suona malissimo Però credo di avere Tutte le palline Del caso Quindi se riesco ad avere Un secondo di riparo Dai mob Sperando non ce ne siano altri Ah guardate un po' Il villagero Ok qua c'è uno zombie normale Che possiamo anche ammazzare Eh si ragazzi Abbiamo sei blocchi di slime In più una pallina Che ovviamente ci portiamo a casa Ho fatto la crafting table Perché non ero troppo sicuro In realtà preferisco fare i conti bene Prima di fare qualche sciocchezza Quindi ci riprendiamo tutto Abbiamo la lead Abbiamo tutto Montiamo a cavallo E quindi possiamo tornare a casa Ed eccoci tornati a casa ragazzi Finalmente torniamo a casa Vittoriosi Con i blocchi che ci servono Ora parcheggiamo un attimo il cavallo Nella sua posizione provvisoria Perché poi Devo fare anche una stalla Per i cavalli E tutti gli animali Ragazzi Sto rimandando un sacco di progetti Ma pian piano Faremo tutto Faremo tutto Intanto Eccoci qua Chiudo anche le porticine Prima che il maiale vada via Passiamo da qua Ed entriamo in casa E vediamo subito Di prendere tutti i materiali Che ci servono appunto Per la nostra piccolissima farm Intanto ci servirà Della cobblestone Perché ci serviranno Dei pistoni Appiccicosi Quindi prendo anche Del ferro In realtà no Aspettate ragazzi Perché i pistoni Ce li abbiamo Quindi facciamo così Se non ricordo male Qua infatti avevo già Due ball Due slam ball Quindi a questo punto Facciamo direttamente così E risparmiamo Due pistoni appiccicosi Li abbiamo Qua ci serve Un blocco di redstone Quindi prendo Nove pezzi Di redstone In questo modo Gli slam block Ce li abbiamo Ci serve solamente Una leva Una leva Che dovrei fare Con Ecco qua Perfetto Lo stichetto E Il nostro pezzettino Di cobblestone Ora Come dobbiamo fare La farm Ancora lo ignoro Infatti Oggi ragazzi Faremo solo La fondamenta Della farm Non farò Ovviamente Tutta la parte estetica Facciamo solo la farm Decidiamo intanto Dove farla E sinceramente Vorrei cominciare Ad espandermi Quindi non voglio farla Troppo vicina Alla casa Quindi magari Probabilmente La farò A metà strada Da queste parti Credo di avere Tutto Ragazzi Ho i miei dubbi Ma credo Di non aver scordato Nulla Quindi ora Dobbiamo decidere Dove farla Dove fare La farm Che ci serve Che poi vi spiegherò Anche che farm È visto che Non ve l'ho ancora detto Non lo so Ragazzi Non lo so Là abbiamo La farm Di zombie Da questa parte Ci sarà la strada Che ci condurrà Ai nuovi progetti Ragazzi Da questa parte Del mondo Ci saranno I progetti Molto Molto Grandi E molto Molto Importanti E quindi Pensavo Di restare Su questo lato Intanto E magari Farla Qui da qualche Parte Perché no Ho intanto Nella vanilla Piove Perfetto Speriamo Sia una farm Bagnata Una farm Fortunata Che cominciamo A fare subito Allora Intanto Vi dico Già Che probabilmente La faremo Alzata Di un blocco Quindi Facciamo così E mettiamo Caso Che questo Sia il blocco Di partenza Quindi ci servirà Un blocco Solido A vostra scelta Mettiamo Intanto La leva In questo modo Poi mettiamo Qua Un blocco Ora Mettiamo I pistoni Appiccicosi E poi vi spiegherò Che farm E Aspettate Però che qua Mi devo aiutare Con la cobblestone In questo modo Quindi mettiamo Un pistone Appiccicoso Così No aspettate Deve essere Verso l'alto Ecco Per forza di cose Così ci sta Ora Azioniamo La leva In questo modo E mettiamo Un blocco Di slime Proprio qua E qua A fianco Mettiamo Per fortuna Ora crafting table Il blocco Di redstone Quindi lo facciamo subito Eccolo qua Il nostro bel blocco E lo mettiamo Qua di fianco Ragazzi Messo in questo modo Ora Dobbiamo Spaccare Questo muretto Di cobblestone Che non ci serve Sono tutti blocchi In più Così come Questo Questo E questo Li possiamo Spaccare pure via E qua ragazzi Dobbiamo mettere Intanto Un blocco Messo In questo modo Sotto il blocco Di redstone Il blocco Il pistone Rivolto Verso di noi Quindi il secondo Pistone Afficcicoso Rivolto Verso di noi Così E poi ci serviranno Gli altri blocchi Di slime Ora Spacchiamo tutto E mettiamo Un blocco Due blocchi Tre Quattro blocchi Quindi avevamo bisogno Di cinque blocchi di slime E che dire ragazzi La farm è praticamente finita Ora se noi azioniamo la leva Guardate un po' Che succede Questa piccolissima farm Non fa altro Che duplicare Le rotaie Non tutte Le duplica tutte Tranne quelle normali Ma se ci pensate Le rotaie Sono fondamentali Nella serie Che ci serviranno Per portare i villager Dal villaggio Ci serviranno Nella farm Di lana Che sto progettando Ci serviranno Davvero per tantissime Tantissime cose Anche per la miniera Per tutti i passaggi Quindi in realtà Le rotaie sono Un oggetto Che utilizziamo In grande quantità E visto che non abbiamo Comunque una farm D'oro e risorse Perché non duplicarle Quindi per prima cosa Ora andiamo a fare Due power red rail O meglio un set da sei E proviamo a vedere Se tutto funziona Quindi abbiamo bisogno Sicuramente Di sei pezzi d'oro Avremo bisogno Anche di redstone Abbiamo bisogno Di sticchetti E credo di avere tutto Perché se non ricordo male Le power red rail Si fanno In questo modo Non con la zappa Ma con lo sticchetto E infatti avevo ragione Ci facciamo il nostro bel set Torniamo fuori E vediamo un po' Se la farm funziona E poi probabilmente Nel prossimo episodio Oltre a farvi vedere Un po' di progresso Perché ci sono alcune cose Che devo sistemare Tipo Devo ricordarmi Di andare a dormire Quando fa notte Probabilmente faremo anche La casetta Della farm Di rotaie Quindi la faremo Ora E sarà un pochino Staccata dal mondo Ma questo ci darà Anche la possibilità Di fare dei sentieri Eccetera Per collegare il tutto Ora Dovendo andare a letto In teoria La pioggia dovrebbe Anche cessare E infatti Così ho Guardate un po' Una bella giornata Su minecraft Perfetto Perfetto E allora Torniamo fuori Sperando non si siano Generati troppi mob Perché Non mi sono accorto Che era notte Già da un po' Quindi probabilmente Avremo tanta Tanta di quella compagnia Andiamo subito Alla farm E infatti Creeper laggiù Che ci fa compagnia Molto bene Molto bene Ce ne sono altri Ce ne sono altri Sì che ce ne sono altri Che però Io non voglio Che esplodano Quindi per favore Se tu mi segui Nell'acqua In teoria Tu non dovresti Fare danno Al mio mondo O almeno spero È inutile che Circonnavighi l'acqua Maledetto Forza T'ho fregato Non mi puoi Ecco qua Non mi puoi fare nulla Scappa Grazie mille Per avermi rovinato L'albero Maledettissimo Creeper E guardate un po' La generazione dell'acqua Non importa Non importa Sperando non ci siano Altre personcine Simpatiche in giro Ci guardiamo un po' Attorno Posizioniamo le nostre Due rotaie Quindi ci mettiamo così Saliamo un po' In questo modo E mettiamo le due Powered Rail In questo modo Ora non ci basterà altro Se non attivare la leva Che da qua però Non riesco a raggiungere In questo modo Eccoci qua E intanto togliamo Il piccone Così almeno Azioniamo la leva Tranquilli E guardate un po' Ragazzi Rotaglie Infinite Come vi ho detto Tutte si possono Duplicare Tranne le rotaie Normali Ma quelle le utilizzeremo Solo per le curve Quindi in realtà Va bene sprecare Qualche lingotto di ferro Mentre queste Sono più dispendiose Di redstone D'oro E quindi in realtà È una manna dal cielo Averle infinite In questo modo Infatti come vedete In pochi secondi Ho già fatto mezzo stack Quindi ragazzi La notte brava All'insegna Dell'uccisione Della caccia ai mob Dati sui frutti Abbiamo fatto La nostra prima farm Di rotaie Ma ovviamente Ci servirà una farm Di slime Ci serviranno Tante tante farm Dove utilizzeremo Però le rotaie Quindi quello che abbiamo Fatto oggi È di vitale importanza Per continuare la serie Per i progetti futuri E spero che questo video Vi sia piaciuto Se è così Vi invito a mettere un mi piace Iscrivetevi al canale E farmi sapere sotto Nei commenti che ne pensate Vi ringrazio per aver visto il video Fino alla fine Vi lascio altri due video Nella scheda finale E come sempre Vi do l'appuntamento Alla prossima E vi dico Ciao a tutti